in modo molto semplice, semplicemente non curandomi di loro a dirvi il vero da quando sono piccolo non mi è mai interessato particolarmente quello che pensano gli altri di me sin da piccolo ho avuto molte persone che parlassero male di me o che commentassero quello che facessi in famiglia, amici, a scuola, in generale quindi non ho mai ascoltato particolarmente le uniche critiche per me sono veramente importanti sono quelle dei nostri clienti che sono coloro che effettivamente pagano i nostri stipendi che pagano il mio mutuo, che pagano le cose importanti quindi se un cliente non gradisce il nostro servizio sono molto interessato alle sue critiche e cerco di migliorarle ovviamente mi dà fastidio perché comunque se ricevo le critiche vuol dire che stai facendo qualcosa di sbagliato soprattutto nel caso del lavoro ma le affronto con molta umiltà e cerco di risolvere parlando nella squadra e cercando di offrire una soluzione alle critiche che abbiamo ricevuto soprattutto nel caso dei clienti per quanto riguarda invece gli altri non mi è mai fregato nulla quindi tanto più adesso che penso di avere le spalle abbastanza larghe di fregarmi delle loro critiche anche perché se parlano di me vuol dire che c'è un motivo vuol dire che sto facendo qualcosa di importante quindi che parlassero grazie a tutti grazie a tutti